Si rinnovano le pubbliche amministrazioni e arrivano le assunzioni a tempo indeterminato. E' così per la Regione Marche che ha appena bandito due nuovi concorsi per 92 posti fra assistenti e funzionari. C'è tempo fino al 16 marzo per presentare la propria candidatura esclusivamente in via telematica ad uno dei 36 posti disponibile di assistente amministrativo contabile oppure ad uno dei 56 posti di funzionario amministrativo e finanziario. Domande e modalità di concorso sono consultabili sul sito della Regione Marche all'interno dell'area amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso. Secondo l'assessore regionale Guido Castelli, questo è solo il primo passo di un piano di rafforzamento delle pubbliche amministrazioni erose fra pensionamenti e un decennio di blocco di turnover. A breve sono previsti infatti altri concorsi per raggiungere 127 nuove professionalità all'interno dell'organico regionale.